Quindi se non continuano a sterminare, probabilmente la via è quella, non l'elettrico o altre cose per sopperire alla faccenda. No, bene. Nel 1917 un portoghese trovò un additivo che lui diceva che era molto semplice, che aggiunto in ragione del 4% all'acqua, qualsiasi acqua, ne abbassava ferocemente la termolisi a 1500 gradi. L'acqua comincia a separarsi, quindi tornano a separarsi l'idrogeno e l'ossigeno e poi questo fenomeno va a regimi a 6000 gradi. Ma attraverso un catalizzatore semplice, diciamo questo, posso abbassare la termolisi a 200-300 gradi. Quindi questo qui che ha fatto ha preso questa roba, quest'acqua preparata così, l'ha messa in un motore, ha ricarburato perché il rapporto stecchiometrico è molto più vantaggioso che quello della benzina, poi faceva andare i motori. Questa faccenda lui l'ha presentata alla marina americana, ha preteso per il suo silenzio 2 milioni di dollari di allora, poi non si è più saputo nulla, probabilmente l'hanno macinato fino fino a quello lì, non so. Vecchi siciliani, parlandone, mi hanno detto che qui nel 1944, quando sono arrivati gli americani, con i cararmati, le jeep e i camion, ci chiedevano dove era la fontana perché dovevano fare il corrimento. Andavano là, mettevano dentro l'acqua, buttavano dentro due pastiglioni gialli e ripartivano. E poi c'è, era un ingegnere veneto che lavorava alle Reggiane, qui a Reggio Emilia, fece un brevetto, trovò il sistema per aumentare, almeno per 10 minuti per volta, perché dopo il motore si doveva riposare, perché non era strutturato per questo aumento, aumentare la potenza dei motori degli aeroplaneti a caccia del 25%, che faceva quando questo andava a balla, quindi proprio al massimo, cominciava a buttare vapore d'acqua nei condotti di aspirazione. Quindi evidentemente là dentro c'erano già delle temperature enormi, più le compressioni forse cominciavano ad arrivare a quei famosi 1500 gradi e quindi producevano carburante in più. Poi c'è stato anche l'ingegner Ferrari, parlo dell'ingegner Ferrari, della Ferrari qui di Maranello, e vide un motociclista francese, qua si parla di anni 50-60, che quando usciva dall'ultima curva, prima del rettilineo, a un certo punto prendeva una spinta che superava tutti. Dopo qualche corsa e qualche insistenza a parte dell'ingegner Ferrari, anche questo gli disse, quando io esco, che il motore a balla, rovente, io butto dentro, inietto dentro dell'acqua. Adesso la Toyota, su un altro principio, dice che ha buttato fuori un sistema che riesce a scindere molto facilmente l'acqua, quindi in maniera molto conveniente, idrogeno e ossigeno, e stanno facendo le prove per fare la macchina ad acqua.